Ciao ragazzi, io sono Clara e questo è Clara Art, il mio mondo. In questo canale vi farò vedere un po' di tutto, perché sono una persona artistica, cui piace il fai da te, ogni cosa creativa mi attira, e quindi in questo canale voglio portarvi un po' della mia creatività e magari darvi qualche idea. In particolare le mie passioni sono il nail art e la penna 3D, e ci faccio di tutto, quindi vedrete piano piano metterò qualche progetto e spero che vi piacciono. Intanto vi lascio al video, il link è in descrizione per il mio blog, e come avete capito dal titolo, il video è un tutorial per creare delle stelle marine con la penna 3D, e potrete utilizzarle come ciondoli, come portachiavi o come soprammobili, potete appenderli per la casa, sono molto carini. Bene, adesso mi sono presentata, vi ho detto cosa c'è nel video, quindi spero che il mio progetto vi piaccia, lasciate commenti, mi piace e soprattutto iscrivetevi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.